ciao a tutti credo che come me siate rimasti scossi dalla notizia terribile di qualche giorno fa purtroppo tre persone hanno perso la vita e decine sono finite all'ospedale a causa del botulino di fronte a una tragedia del genere la paura non è solo normale ma è giustificata e la domanda che sorge spontanea guardando i vasetti di conserve nella nostra dispensa è solo una potrò consumarla in tutta serenità ho sentito il dovere di fare questo video proprio in risposta di questa tragedia non per creare altro allarmismo ma al contrario per onorare le vittime nel modo più utile che conosco ovvero fornendo l'informazione più chiara e precisa possibile oggi trasformeremo il dubbio e la paura in conoscenza per proteggere noi stessi e le persone che amiamo nei video scorsi sul botulino abbiamo visto i principi base per fare le conserve è un esempio pratico per fare l'olio piccante oggi alla luce di quanto successo voglio fare un passo in più con voi voglio darvi tutti gli strumenti per capire a fondo il rischio botulino e per sentirvi sicuri al cento per cento quando preparate le vostre delizie a casa e lo faremo usando come faro la fonte più autorevole che abbiamo in italia l'istituto superiore di sanità dunque per trasformare la paura in consapevolezza la prima cosa da fare è capire chi è esattamente il nostro nemico il suo nome è clostridium botulinum è un batterio che vive comunemente ovunque attorno a noi nel suolo nella polvere sui prodotti dell'orto questo significa che può trovarsi in modo del tutto naturale sulle verdure fresche che raccogliamo o che compriamo la sua caratteristica fondamentale il cuore del problema è che prospera in assenza di ossigeno l'aria per lui è un ambiente ostile e questo batterio ha sviluppato una strategia di sopravvivenza geniale quando si trova in un ambiente che non gli piace come all'aria aperta non muore si mette in stand by creando una specie di armatura una capsula di sopravvivenza ultra resistente questa capsula si chiama spora per capirci meglio pensiamo alle spore come il seme di una pianta estremamente velenosa i semi di per sé non sono pericolosi ma contengono al loro interno tutto ciò che è necessario per far crescere la pianta letale e questi semi sono incredibilmente tosti possono sopravvivere a temperature molto alte molto basse e aspettare pazientemente per mesi addirittura per anni il vero pericolo dunque non è la spora in sé ma è quello che succede dopo quando anche solo una di queste spore finisce nel suo ambiente perfetto il suo paradiso si risveglia e qual è questo paradiso? un vasetto di conserva fatta in casa per esempio ma solo se non vengono prese le giuste precauzioni dunque le condizioni da evitare sono quattro l'assenza di ossigeno che è il vuoto che creiamo nei vasetti di conserve la presenza di acqua che è l'umidità naturale contenuta negli alimenti il pH sopra al 4.6 verdure, funghi, legumi, carne, pesce non sono abbastanza acidi e la temperatura favorevole la normale temperatura della dispensa quando tutte queste quattro condizioni sono presenti la spora germoglia il seme si schiude il batterio si risveglia e nel suo processo vitale inizia a produrre la tossina botulinica ed è proprio questa tossina non il batterio ad essere letale è una delle sostanze più velenose al mondo una neurotossina che agisce bloccando il nostro sistema nervoso e la cosa più insidiosa, il motivo per cui è un nemico così temibile è che la sua presenza è spesso impercettibile una conserva contaminata può avere un aspetto un odore e un sapore assolutamente normale ecco perché la regola fondamentale quella che non ammette eccezioni è non si assaggia mai una conserva per capire se è ancora buona quindi il nostro obiettivo non è tanto eliminare un batterio che è praticamente ovunque ma è impedire a queste spore questi semi resistentissimi di trovare le condizioni per germinare e iniziare a produrre il veleno ora che sappiamo chi è il nemico e come agisce siamo pronti a vedere le armi che abbiamo per sconfiggerlo ora che conosciamo il nemico applichiamo le regole d'oro dell'istituto superiore di sanità al nostro ingrediente preferito il peperoncino vedremo come conservarlo in modi diversi garantendo sempre una sicurezza assoluta la prima regola è igiene e preparazione pulizia lavate accuratamente i peperoncini sotto l'acqua corrente integrità scartate quelli ammaccati con parti mollicce o segni di muffa un peperoncino non perfettamente sano è una porta d'accesso per i batteri protezione usare sempre i guanti per evitare di avere dei bruciori indesiderati e infine sanificazione ovviamente come già detto vasetti tappi utensili e piani di lavoro devono essere impeccabilmente puliti e sanificati così come le vostre mani regola numero 2 i metodi di preparazione un peperoncino fresco ha tutta l'acqua e un pH elevato che il botulino ama quindi per renderlo sicuro dobbiamo togliere uno di questi due elementi abbiamo dunque tre strade prima strada essiccazione la via dell'olio sicuro questa è la via più sicura in assoluta e ne ho parlato in dettaglio nel video sull'olio piccante e qui vi lascio il link perché è così sicura? perché elimina l'acqua e senza acqua le spore del botulino non possono germogliare niente acqua niente pericolo se volete fare un olio piccante per infusione vi basta usare peperoncini completamente secchi che appena li toccate si sbriciolano è l'unico modo che senza ulteriori trattamenti vi garantisce una sicurezza del 100% seconda strada l'acidificazione la via dei sottaceti volete conservare i vostri peperoncini freschi mantenendoli croccanti? allora dovete renderli acidi il procedimento corretto indicato dal ISS è il seguente primo tagliare i peperoncini come preferite due sbollentateli per due o tre minuti in una soluzione composta da una parte di acqua e una parte di aceto di vino che abbia un'acidità di almeno 6% terzo scolateli e lasciateli asciugare su un panno pulito a questo punto i vostri peperoncini sono stati resi acidi dall'aceto potete metterli in un contenitore pulito e coprirli con altro aceto oppure potete coprirli con un buon olio d'oliva terza strada il sale la via della tradizione un altro metodo efficace è la conservazione sotto sale coprire completamente i peperoncini con del sale grosso li disidrata e crea un ambiente talmente salino da impedire lo sviluppo di qualsiasi batterio bottolino compreso e adesso permettetemi di aggiungere una quarta via che l'ISS non menziona ma vi garantisco che è sicurissima pure lei e se seguite i miei video lo sapete la via della fermentazione come ne abbiamo già parlato in altri video precedentemente fermentare le verdure è un altro sistema sicuro per acidificarle in questo caso non aggiungiamo dell'aceto ma fermentando le verdure si acidificano grazie all'acido lattico se volete approfondire l'argomento della fermentazione qui vi lascio il video regola numero 3 il trattamento termico e la bollitura finale dei vasetti pieni serve? dunque nel caso della strada numero 1 quella dei peperoncini essiccati come già detto qui il problema non si pone il prodotto è già sicuro perché è secco a questo punto nessun trattamento termico è necessario per la sicurezza dal botulino invece nel caso dei peperoncini sott'aceto o acidificati e poi messi sott'olio qui un trattamento termico è fortemente raccomandato dopo aver riempito e chiuso i vasetti procedete con la pastorizzazione una semplicissima bollitura in una pentola normale per 20 minuti attenzione che in questo caso la bollitura non serve per uccidere le spore del botulino perché ci ha già pensato l'aceto a bloccarle ma serve a due cose importanti uccidere altri microorganismi come muffe o lieviti e creare un sottovuoto stabile e duraturo che è una garanzia di conservabilità nel tempo e logicamente anche se avete scelto la terza strada quella del sale non serve assolutamente a nulla far bollire i vasi e anche nel caso della fermentazione una pastorizzazione è inutile anzi è controproducente perché grazie alla fermentazione si formeranno tantissimi batteri buoni con la pastorizzazione andremo ad ucciderli ma il caso da evitare assolutamente sono i peperoncini freschi messi direttamente nell'olio voglio essere chiaro su questo prendere peperoncini freschi magari grigliati e metterli direttamente in un vaso e ricoprirli d'olio significa creare una bomba al botulino state introducendo un alimento umido e poco acido in un ambiente senza ossigeno è la ricetta perfetta per un disastro per rendere sicura una conserva di questo tipo l'unica via sarebbe la sterilizzazione in pentola a pressione oltre i 121 gradi centigradi un processo che però logicamente rovinerebbe la consistenza dei peperoncini quindi il messaggio è semplice non fatelo le uniche vie sicure che danno ottimi risultati sono l'essicazione e l'acidificazione seguite quelle parte 3 il controllo finale e quando arriverà il momento di gustare il nostro lavoro l'ultimo gesto di sicurezza è l'ispezione prima di aprire controlliamo il coperchio deve essere rientrante vedete? schiacciando non succede niente perché rientra se il coperchio è bombato c'è qualcosa che non va non ci sono bollicine strane il liquido è limpido non è torbido altri due punti a favore questo suono è la nostra garanzia finale una volta aperto vedete che il tappo si è bombato e schiacciandolo fa questo rumore mi è già successo pure al supermercato di acquistare un vasetto di sottaceti ma faceva questo rumore quindi era stato aperto o c'era stato qualcosa che non ha funzionato durante la pastorizzazione e quant'altro è già difficile nell'industria però può capitare quindi prestate sempre attenzione al coperchio ecco dunque nel caso in cui la vostra conserva quando l'aprite non fa questo clac o notate che il coperchio è bombato la regola è una sola mai assaggiare si butta via tutto senza esitazioni ma se seguirete attentamente i passaggi che abbiamo visto quel controllo sarà soltanto una serena formalità che va sempre comunque fatto dunque siamo partiti da una notizia drammatica da una paura concreta e siamo arrivati fino a qui spero che questo percorso che abbiamo fatto insieme vi sia servito per capire una cosa fondamentale fare le conserve in casa che si tratti dei nostri amati peperoncini o di qualsiasi altra cosa non è una roulette russa non è una questione di fortuna è una scienza è un insieme di processi chiari basati su regole di igiene chimica e fisica e la notizia meravigliosa è che non serve essere degli scienziati per applicarle basta conoscerle e rispettarle la paura non deve farci abbandonare le nostre tradizioni e le nostre passioni deve spingerci a fare meglio con più intelligenza e consapevolezza e a proposito di consapevolezza ora vi chiedo di fare una cosa molto importante non per me ma per voi per la vostra sicurezza e per la sicurezza delle persone a cui cucinate tutto ciò che abbiamo detto oggi è basato sulle linee guida dell'istituto superiore di sanità sono il manuale di istruzioni più completo ed autorevole che esista in Italia sulla conservazione domestica un documento gratuito scritto in modo chiaro che tutti dovremmo avere per questo il mio invito più importante è il seguente andate nel link che trovate qui sotto proprio in cima alla descrizione del video cliccateci e vi si aprirà un pdf scaricatevelo scaricatelo sul pc scaricatelo sul telefonino stampatelo e tenetelo sempre con voi in cucina e consultatelo ogni volta che avete un dubbio sarà la vostra bibbia quando farete delle conserve non andate a cercare in internet perché ogni sito dirà una cosa diversa seguite l'istituto superiore di sanità se questo video vi è stato utile e vi ha tranquillizzato lasciate un like perché aiuterà altre persone a trovarlo e se avete domande come sempre lo spazio sotto è tutto vostro grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti grazie a tutti Hot, hot, hot Red Show